a salvo a tutti ragazzi eccoci qua in questo video al vostro franca 0 4 grande come vedete la visione non è ottimale perché non sono a casa mia sono a casa sono a casa orie qua la luce non manca di non c'è manca ecco perché non quindi a visione non sarà certamente ottimale spero che comunque mi veda abbastanza bene parliamo un po' della partita allora fiorentina inter che si è conclusa con il risultato di di 5 4 per la fiorentina cioè per mettere il quinto gol prima che l'interessi c'era una palla tanta che era fuori gioco il quinto gol bravo il quinto gol era necessariamente vuoi gioco qua c'è valeria che poi vi saluterà e niente il quinto gol è stato viziato da una posizione di pochi gioco di babacarra e partita che a me questa partita mi piace ma lo divertì squadra in vantaggio con un gran gol di vessino pareggio di perici bella azione due unica di bella azione anche il gol poi rigore per la fiorentina vabbè sbaglia comunque mettere altre gol per quello la che si porta no tre gol tre gol per i carti che poi dopo 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 che sono cinque con un terzo gol che non mi ricordo di chi era l'idea di astolsi come parecchio non mi ricordo non mi ricordo poi c'è stato il quinto quarto gol di babacarra il quinto di babacarra perché per la prima di gioco poi però i carri si è svegliato ha fatto due bei gol e si è portato il gol tre e prima come aveva fatto prima il primo tempo aveva fatto e così si è portato il pallone a casa perché chi fa tre gol si porta il pallone a casa e quindi si è svegliato i carri poi è andato su questa palla a gol però non la sfrutta perché il pallone non gli ha aiutato la testa non la sfrutta però comunque dai diciamo che l'inter ha giocato abbastanza bene potrà finire 4 a 4 ma si è anche mangiato un rigore quindi se non si sa mangiato proprio come se non è un pochino è stata una bella partita però siamo che la fine 4 a 4 se non ti sono proprio belle sono bella come ha detto valerio qua che adesso vi saluterà e questo non abbiamo più una di uscire domani ma non c'è tutto per cambiare ciao io mi chiamo valerio sono il cugino di io francesco e di ventino francesco 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 e come stai so bene so bene gira un po' anche lui un po' tracagnotto come me è vero un po' le corno esatto continuiamo al prossimo video domani il domenico domani ma perché domani sta una partita eh sì c'è la juventus domani eh vaffanculo due che sei juventino mettilo lo stesso il video scusate per le parolacce ciao a tutti ragazzi